domani è il giorno di Alessandro Rosina nessuna partita, nessun assist da confezionare ma è comunque un appuntamento da non perdere. Ore 14.30 a Torre del Grifo si riaprono i cancelli della struttura sportiva quanto meno ai giornalisti per l'interruzione del silenzio stampa. Un rappresentante del calcio Catania tornerà davanti a microfoni e tacquini. Il tutto avverrà dopo le esterrazioni dell'amministratore delegato Pablo Cosentino nell'infocato post partita di Catania Crotone. Con il fantasista rossazzurro uno dei pochi a salvarsi contro i calabresi si parlerà della delicata gara con il Pescara da non perdere visto che la classifica non è certo incoraggiante. All'orizzonte tra l'altro incombe per gli uomini di Marcolin un calendario complicato e intricato con sette partite ben cinque in trasferta in meno di un mese. Si comincia dicevamo da Pescara poi Frosinone in casa prima di affrontare il Bari al San Nicola e rimettere piede al Massimino per ospitare lo Spezia. Un tour de force che si concluderà con tre partite consecutive fuori casa. Il 10 marzo recupera Modena, il 14 a Vicenza dell'ex Pasquale Marino e il 21 a Chiavari contro la Virtus Centella. Marzo in un modo o nell'altro deciderà il futuro del Catania che comunque dovrà iniziare a fare punti anche in trasferta. Un tabù da sfadare in fretta per cancellare quel fastidioso zero alla voce vittorie fuori casa. Già perché l'ultimo successo lontano dalla Sicilia risale alla passata stagione 1 a 2 peraltro inutile al Dallara di Bologna.